Adesso alle ore 22.30 del 31 marzo 2018, sabato prima di Pasqua, dopo giorni e notti di durissimo lavoro abbiamo approvato il bilancio del Comune di Napoli. Ci tengo a sottolineare e di comunicare ai nostri concittadini che quest'anno è stata davvero dura. Il meteorito istituzionale del debito storico ed in particolare del debito del terremoto e dei rifiuti ci hanno messo davvero in ginocchio. Siamo stati a un passo, ma davvero a un passo, dall'essere costretti ad una macelleria sociale senza precedenti o a mettere in liquidazione l'azienda del trasporto della nostra città. Solo un grande lavoro di squadra ha evitato tutto questo, ma adesso noi non abbiamo più altro tempo a disposizione. Deve essere eliminato questo debito storico, devono essere eliminate queste ingiustizie perché questo attacco alla città è diventato insopportabile e rischia di avere delle cadute irreversibili sui diritti e bisogni degli abitanti di Napoli, dei napoletani e di tutta la città. Ecco perché a questo punto, avendo ottenuto questo risultato di cui siamo orgogliosi, cioè di non aver tagliato nulla, nonostante una sforbiciata di oltre 100 milioni di euro, abbiamo fatto un miracolo lauico. Magari la Pasqua in questo ci ha portato sicuramente bene e ci ha portato fortuna, ma adesso è venuto il momento della lotta e della mobilitazione popolare che si potrà arrestare solo quando avremo raggiunto i nostri risultati. Norme, atti amministrativi e leggi che eliminano queste discriminazioni e queste ingiustizie volute, predeterminate e organizzate nei confronti della nostra città. Quindi davvero buona Pasqua a tutti e a tutte, è stata dura, non abbiamo dormito in questa settimana davvero quasi per nulla, un grande lavoro di squadra e voglio che la città sia a conoscenza che non è solo il sindaco che ha lottato fino a questo punto, ma tutti gli assessori, tutta la nostra squadra, tutti gli impiegati, funzionari, dirigenti che hanno lavorato a questo bilancio sono stati davvero tutti quanti bravi. Questo è un grande orgoglio per la città, l'abbiamo fatto tutti noi sacrificando qualsiasi altra circostanza della nostra vita, qualsiasi altro interesse. Per me è scontato, ma non è magari scontato per tutti, per ogni dirigente, per ogni funzionario e per ogni persona che ha lavorato a questo bilancio. Quindi oggi andiamo a casa con grande soddisfazione, con la certezza di non aver fatto tagli, ma anche con la consapevolezza che inizia e deve iniziare una mobilitazione popolare dalla quale nessuno si deve tirare indietro perché questa è una lotta in difesa della nostra città, della nostra Napoli.